My Home, My Destiny, anticipazioni di venerdì, 10 novembre, dove vedremo Meti, incolpevole, vittima degli eventi, vedere sfumare tutto quello per cui ha lottato. Mentre le giornate di Zeynep e le altre scorrono in maniera tranquilla e serena, Meti è ancora in attesa di essere dimesso dall'ospedale per far ritorno in carcere e aspettare poi la scarcerazione. Finalmente il giorno arriva, però viene condotto in un'altra cella dove non conosce nessuno. Da subito un uomo di nome Bekir comincia a provocarlo, ma grazie all'intervento di un anziano della cella, Meti riesce a non cadere nelle provocazioni e si sistema accanto all'uomo che lo ha preso sotto la sua ala protettiva. L'uomo infatti ha riconosciuto Meti come il figlio di un ex detenuto al quale lui era legato, motivo per cui ha deciso di aiutarlo. Meti dovrà trascorrere solo una notte in quella cella, in attesa della scarcerazione ormai certa, ed è meglio per lui non carciarsi in mezzo a risse o finire di nuovo in ospedale. A casa di Baris, Aliriza e Sultan prendono un tè in veranda. È questa l'occasione per l'uomo di confessare a Sultan il desiderio di vedere di nuovo il nipote Baris sposato. Secondo lui, infatti, un nuovo matrimonio per Baris gioverebbe anche a Savas, che vedrebbe di nuovo la sua casa piena e allegra. Aliriza, quindi, sapendo che Sultan è anche celebre per aver combinato matrimoni di successo, le chiede aiuto per scegliere una moglie ideale per Baris. Sultan rimane sorpresa dalla sua proposta ma accetta di buon grado, anche perché i due, scherzando con vari giochi di parole, sono d'accordo nel volere Zeynep e Baris insieme. Meti ha l'incontro con il suo avvocato, che gli ribadisce il fatto di stare molto attento e di non cadere nelle provocazioni di Bekir. Lo esorta a non andare in bagno da solo e a rimanere sveglio, se necessario, di fare tutto il possibile per difendersi e non fare nulla di compromettente prima dell'udienza di scarcerazione. Arrivata la sera, Baris accompagna a casa Zeynep. I due, però, non vogliono scendere dalla macchina prima di aver finito di ascoltare una canzone e fanno così diversi giri dell'isolato prima di fermare l'auto. Rientrata in casa, Zeynep viene informata da Sultan che il giorno dopo Meti avrà l'udienza di scarcerazione. Nermin, infatti, è ancora più nervosa del solito e non ha ancora perdonato la figlia per aver ritirato la denuncia così facilmente. Nermin, questa volta, però, rivolge le sue lamentele direttamente a Zeynep invece di negarle la parola, situazione che Sultan cerca subito di sfruttare per farle riappacificare. Subito, Zeynep, infatti, rinnova a Nermin le sue scuse e le promette di stare il più attenta possibile e finalmente le due si stringono in un abbraccio, al quale poi si aggiunge anche Sakine. Mentre Alirisa e Savash giocano a scacchi, torna a casa Baris. Mentre i tre scherzano e parlano del più e del meno, Alirisa li informa che ha intenzione di vendere la casa e di trasferirsi in un'altra casa. Per lui, infatti, quella più che una casa familiare sembra essere una casa museo, piena di roba vecchia e inutilizzata, che serve solo a ricordare quanta vita ci fosse prima e quanta poca ce ne sia adesso. Baris e Savash non sembrano per nulla felici della notizia, anche se non confessano subito allo zio le proprie perplessità, vedendolo troppo felice e preso dalla sua decisione, tanto da mettersi a ballare. Nella cella di Meti tutti si preparano per la notte e, anche prima di addormentarsi, Bekir lo provoca aspramente, venendo poi fermato dall'anziano che sembra comandare all'interno della cella. Tutto sembra essere stato risolto, ma durante la notte Bekir fa la sua mossa. Si avvicina alla branda di Meti, armato di coltello, e cerca di colpirlo. Fortunatamente, l'anziano si sveglia giusto in tempo per avvertire Meti e, prontamente, lui reagisce all'aggressione. Ne segue una lotta, in cui Bekir riesce a difendersi a stento, tanta è la furia di Meti. Lui sa benissimo di non poter rischiare di compromettere l'udienza di scarcerazione del giorno dopo e decide quindi, di respingere l'attacco di Bekir, ma anche di non farne scaturire qualcosa di più grave. Gli intima allora di stare ben lontano da lui e che, per sicurezza, lui non lo perderà d'occhio un solo attimo. Tutto accade sotto gli occhi dei numerosi detenuti in cella. Il giorno dopo, Benal con Mushgan, Nu, Gemile e Kibrit si presentano in tribunale con l'avvocato per sistemare le ultime pratiche legali e poter andare a prendere Meti in carcere. Infatti ci sono delle ultime sottigliezze da risolvere proprio in carcere prima del rilascio ufficiale di Meti. Tornati in carcere, quindi, mentre l'avvocato sbriga le ultime pratiche, Meti prende i suoi effetti personali dalla cella e saluta gli altri detenuti. Contemporaneamente, a casa di Baris, tutti fanno colazione, mentre Alirisa continua ad organizzare lo sgombro della casa. Infatti contatta al telefono la sorella di Baris e Savas, o Zlem, per farla tornare ad Istanbul ad aiutarlo a sgomberare quella casa museo e a trovare una nuova sistemazione per i ragazzi. Kibrit, felicissima per la scarcerazione di Meti, chiama Zeynep per informarla. Lei riceve la notizia a tavola insieme a tutti gli altri. Rimane abbastanza scossa, ma già è consapevole che ciò sarebbe successo, quindi la colazione continua insieme a tutti gli altri. Meti, salutati tutti i compagni di cella e riprese le sue cose, si reca in bagno da solo per lavarsi le mani. Qui viene subito raggiunto da Bekir, che non perde tempo e lo aggredisce subito con un coltello. Dopo una colluttazione, Meti lo mette cappò, ma lascia accanto a lui il coltello, uscendo di corsa e chiamando a squarciagora gli agenti penitenziari. Nessuno arriva in suo soccorso, mentre però si scopre che all'interno del bagno era nascosto un altro detenuto, che divideva la cella con Meti. Di colpo l'uomo accoltella Bekir, maledicendolo per non aver portato a termine il compito dato da Wessi. Subito l'uomo chiama gli agenti penitenziari, che questa volta rispondono subito, e incolpa Meti dell'aggressione a Bekir. Meti torna in bagno, vi trova Bekir esanime e sanguinante, e ancora incredulo e senza parole viene scortato fuori dalla polizia. L'avvocato raggiunge subito Gemile e gli altri, che ancora aspettano il rilascio di Meti e l'informa dell'accaduto. Meti ha accoltellato un uomo, e di conseguenza non verrà rilasciato. Termina così questa emozionante puntata di venerdì. Il destino sembra proprio che si stia accanendo su Meti, quindi non vediamo l'ora di scoprire quali saranno le prossime emozionanti anticipazioni. Io sono Stefania, come sempre vi racconto le vicende di My Home, My Destiny. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, e se volete, lasciatemi un commento.